ciao a tutti io sono fabio e non sono nessun tipo di gran giocatore di scacchi non insegno niente a nessuno perché devo solamente imparare ma veramente tanto io così mi capita di giocare in rete e a questo fantastico gioco che io comincio veramente ad apprezzare tantissimo perché forse l'unico ma magari non l'unico però comunque uno dei pochissimi per il quale il fattore fortuna non influisce e qua non c'è un tiro di dadi non c'è niente un rimbalzo di una palla no 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 assolutamente qua l'unica fortuna che puoi avere è che l'avversario sbagli più di te basta tutto lì io gioco senza aver studiato niente semplicemente giocando qua online uno due tre partite al giorno e mi accorgo che ce ne vuole prima che diventi un giocatore decente però allora perché questo video perché voglio semplicemente dirvi una cosa una lezione che io vorrei che capissero tutti quando si gioca online a scacchi essere un pochettino gentili educati è un po di fair play non guasta non è un gioco come appunto il calcio non è nemmeno un gioco come quelli sparatutto dove i classici bimbi minchia si insultano e soprattutto non siate spacconi ecco assolutamente perché a volte si rischia di fare veramente delle brutte figure vi faccio alcuni esempi ve ne faccio uno va vi faccio vedere una partita che ho giocato di recente dove il tipo l'avversario ha la partita in mano ce l'ho in mano faccio quello che voglio di questo tipo qua e poi invece estremamente sono riuscito a vincere e vi ripeto io non insegno niente a nessuno date un po' un'occhiata però come si è svolta questa partita magari ci si fa anche due risate allora io avevo il nero il bianco l'avversario si chiamava good luck for you ma anche per lui un po di fortuna ci vorrebbe allora apertura con e4 a quale io rispondo ovviamente con e5 questo mi mette il cavallo e io ormai l'apertura copia incolla invece che mettere il cavallo e in b8 metterlo in c6 io semplicemente avanzo il pedone ok avanzo pedone di d7 in d6 vediamo lui cosa mi risponde mi risponde con l'altro cavallo solitamente nelle partite che ho giocato col nero sempre c'è l'arfiere bianco che mi si posiziona quasi sempre in b5 a quel punto io invece tiro sul cavallo il pedone in h6 comunque ha messo il cavallo io cosa faccio anche io metto il cavallo che almeno non si sa mai se quello mi va a finire in d5 facciamo un po' di scambi eccolo qua il famoso il famoso alfiere non me l'ha messo in in b5 ma l'ha messo in c4 cosa vuole questo qua muovere il cavallo e poi cercare di farmi perdere almeno un pezzo tra torre regina io cosa faccio e tiro su quel mio pedone famoso premetto io non so giocare probabilmente faccio delle cavolate mostruose non fustigatemi perché lo sono solo solo che sono scarsi vediamo come va avanti la partita avanza il pedone io intanto faccio avanzare il pedone perché ora mi ricordo su quale sito avevo letto di una apertura che è fatta quasi a livello meccanico tutto sommato senza aver studiato che però rendeva molto e comunque per sicurezza io mi alzo il pedone anche perché per lo meno cavallo non me lo posiziona in b6 in b5 rompermi le scatole ecco qua abbiamo l'alfiere io muovo il cavallo arrocco corto del bianco e per me ce n'è ancora un po prima da arroccare anche se poi diciamolo tutto l'arrocco a volte a lasciare il re da una parte ma ha dato fregatura perché non sono un gran giocatore e quindi a volte ci penso un po due volte sbaglierò è comunque tanto gli blocco il cavallo lui a quel punto mette il cavallo direttamente lì dove dicevo io in d5 e io me lo pappo qual'altro mio cavallo naturalmente lui cosa fa ovviamente con l'alfiere lo prende io sposto la regina dico facciamo un pochettino l'arrocco lungo lui sposta di uno io tanto avrò non perdere le scatole dico aspetta un po portiamo sul cavallo possono sia prenderlo sia l'alfiere che il cavallo ma il cavallo sicuramente non lo muove quindi mi dà fastidio col pedone gli mangio il cavallo gli faccio scacco lui copre naturalmente col pedone che intanto viene doppiato e io do fastidio alla torre avanzando di uno sposta la torre do fastidio all'altro alfiere cerco di tenere io diciamo l'iniziativa che mi hanno spiegato che una cosa ottima arretra lo spingo nuovamente col pedone che inizialmente era in b7 lo porto in b5 e lui arretra ulteriormente ok vado avanti col col pedone uno dice ma perché mi dirà ma perché non arrocchi beh diciamo che la difesa sopra il re sarebbe un pochettino scarna se faccio l'arrocco lungo quindi vediamo un po dove dove mi porta questa mia iniziativa magari in posti tremendi però avanzo col pedone lui per sicurezza me lo chiude sposto alla regina perché la mia idea è quella di togliamo poi dopo l'alfiere arroccare corto lui stranamente non mi mangia il pedone in b5 sposta il re io allora porto su e cerco di fare uno scambio di pezzi niente cosa succede lui mi mette lì il la torre evidentemente bah non lo so forse ora doppiarla con la regina però andiamo avanti cosa rispondo il soltanto scambio di pezzi lo è cominciamo a non rimanere sotto per senza toccare la colonna la colonna almeno quello che gliene mangio uno lui ovviamente contraccambia sposto a quel punto all'alfiere lui cerca di penetrare centralmente ma io me ne frego e faccio l'arrocco anche perché bene o male sono coperto andiamo avanti ecco qua che lui allora può mette la torre per dare fastidio al mio alfiere me ne scappo e lui doppia con la regina avevo ragione però doppia con la regina tutto sommato se porta l'alfiere giù mi mangia il pedone quel pedone il pedone in in g7 e ben coperto da regina e dare quindi vediamo dopo tanto mi mangio il l'alfiere e non se ne parla più qua c'era stato mi ricordo un po di tempo lui a pensarci mi fa scacco alla regina col pedone ma la cosa non mi tange più di molto perché l'annullo con l'altro è un pedone e gli blocco sempre quel pedone in e4 che se fosse stato libero ma avrebbe dato più problemi lui cosa risponde continua sempre sulla falsa riga allora io vado avanti e gli do fastidio ovviamente a questo punto qua naturalmente lui dice mi mangia il pedone no va di sotto e mi fa diciamo scacco alla regina a questo punto cosa faccio io mi faccio mangiare la regina perché ero veramente in una situazione veramente brutta date un'occhiata io non posso togliermi perché se mi tolgo di qua lui mi fa scacco matto giusto non posso mangiare il l'alfiere perché se no questo mi viene di nuovo anche lui mangiato quindi a questo punto qua gli devo salvare la partita non la donna e a volte bisogna fare anche questi sacrifici quindi cosa faccio rendo un po più difficile la vita al tipo facendosi che quel mio pedone isolato in g7 salga di 1 e venga protetto dal pedone in f7 a questo punto non gli sembra nemmeno vero si pappa la regina io me ne vado avanti con il con l'alfiere ecco ora qua secondo me lui secondo me ha sbagliato secondo me è perché cosa fa cerca di mangiare il pedone che stava in f4 ma non mi sembra una mossa intelligente perché io avanzo e lo copro col pedone a questo punto qua di andare di filata a farmi lo scacco sul re diciamo che questa idea qua che aveva malsana è andato un po a farsi benedire e qua se ne ha reso conto anche lui mangia il pedone io ovviamente non posso mangiarlo con l'altro pedone perché per il semplice motivo che poi sarei stato scacco dalla regina cosa faccio mi faccio mangiare l'alfiere e questo perché mi era venuto un ideuzza in testa ok vediamo cosa fa lui infatti lui mi ha mangiato l'alfiere ed io vado a coprire quel pedone isolato con l'alfiere bianco l'ultimo l'unico che mi è rimasto sono veramente situazione di pseudo disperata se questo fosse un giocatore niente male mi batterebbe in 4 4 8 ma a questo punto fino alla supponenza l'arroganza di chi tanto ti faccio quello che voglio sono avanti sopra di pezzi in maniera mostruosa e cosa fa mi si mangia ovviamente l'altro pedone io lo porto avanti per coprire sempre il pedone quello in g5 lui cosa fa fa la più grande delle cavolate della sua vita perché in pratica mi mette la regina lì a portata di alfiere io che sono tonto me la magno era troppo sicuro era non lo so forse voleva poi mettere la regina probabilmente in h5 io mi sono pappato la regina qua ha avuto un bel tracollo il tipo però cosa fa e beh allora a questo punto ti schiaccio io con l'altra torre che gli è rimasta due torri anche a lui a questo punto io cosa faccio gli faccio scacco al re mettendo l'alfiere nella sua bella casella f3 lui non ha molte mosse da fare a questo punto può solamente mettere la torre per bloccarmi lo scacco però facendo così non è che poi ha rinviato un granché anche perché c'è lo scacco matto con la mia torre ma la posiziono sulla riga 1 e lui non ha via di scampo non può coprire lo scacco di torre con la sua torre perché scoprirebbe il mio scacco con l'alfiere e gli ho vinto la partita così questo comunque non è stato il più arrogante che io abbia mai incontrato è a no 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 ne ho incontrati veramente di peggio però diciamo che è magari una di quelle partite una addirittura che sentendosi il re della tastiera aveva spinto il suo re mi sembra sulla colonna qua sulla riga 4 alla riga 5 venendomi incontro tappandosi da tutte le parti tranne da una parte dove poi è lì colpito ripeto non voglio fare la ruota con un pavone è stata solamente in questo caso fortuna perché il tipo se avesse giocato in maniera normale col cervello e non volendo fare il gradasso avrebbe vinto alla stragrande ma a un certo punto era talmente sicuro di aver davanti un cretino che mi ha regalato la regina e a quel punto la partita era era finita insomma quindi mai perdere la concentrazione e soprattutto mai fare gli spacconi ok la prossima volta vi farò vedere una delle mie partite ripeto non per insegnare a nessuno ma per farci due risate e riflettere un po ok ciao a tutti e grazie se avete visto questo questo video perché lo sapete vero che non sono assolutamente un giocatore serio e buono spero prima poi di diventarlo chi lo sa ciao a tutti